Tanti progetti ma poche risorse per poterli realizzare. La situazione che l'amministrazione comunale di Peia si trova ad affrontare sul fronte delle opere pubbliche è simile a quella di tanti altri piccoli comuni. Abbiamo fatto il punto con il vice sindaco Santo Marinoni cominciando dalla sala polifunzionale. La sala polifunzionale diciamo che siamo un po' fermi perché avevamo chiesto appunto un contributo alla regione Lombardia e purtroppo per cavilli burocratici non siamo riusciti a entrare ma naturalmente il prossimo anno pensiamo di ultimarla anche questa così anche le nostre associazioni avranno una bella sala dove potersi riunire. A Peia manca una piazza per realizzarla l'amministrazione ha pensato a un intervento particolare e lo vogliamo ricordare. Certamente quindi noi abbiamo già acquisito case e terreni, 1500 metri di terreno per costruire questa piazza. È un po' di tempo che ne parliamo ma naturalmente anche in momenti un po' di crisi non solo di crisi dell'economia ma anche i comuni sono in crisi perché ultimamente riceviamo poi pochi soldi anche dallo Stato. Però ecco abbiamo intenzione di portare avanti anche anche questa. Questa sarà un'opera che penso che quest'anno di fare almeno il rilievo planivolumetrico non quotato per vedere cosa possiamo realizzare. Fatto questo, questo dovrebbe essere un'opera che al comune dovrebbe costare poco anche perché dovremmo farle contemporaneamente con una con un privato. Ditta privata impresa è comune per poter che la ditta magari ricamando sotto la piazza dei boss, delle cose dove lui potrebbe vendere e darci il sopra e darci la piazza a noi. Questo ecco dobbiamo valutarla però è qua in programma anche questo. Un accordo con dei privati invece ha portato ad alcune opere pubbliche. Ecco questo abbiamo trovato il medito di fare lavori a costo zero. Quindi ecco proprio penso che a giorni partirà lì in via Caorazzi un parcheggio di sette o otto macchine dove appunto i parcheggi mancano. Quindi un privato abbiamo sdemanializzato un pezzettino di sentiero e lui in cambio ci realizzerà questi parcheggi. Un'altra opera è l'allargamento della strada che va al cimitero. La strada dove la strada è veicolare perché sai che abbiamo fatto quel bellissimo viale quindi per i per i pedoni quello è nuovo. Ma la strada veicolare quindi dovremmo allargare. Un proprietario ha costruito la casa e quindi l'abbiamo fatto arretrare per tutta la sua proprietà per portando la strada a sei metri. Quindi è un'opera che pagherà il proprietario della proprietà. Poi abbiamo dei parcheggi che andrà a realizzare ancora un proprietario su Inpoiana sul monte. Ne abbiamo già realizzati una ventina con un'opera che aveva fatto un altro proprietario. Questo ha risistemato la sua casa. In cambio lui quello ha detto siccome che a noi serviva un po' di parcheggi ci farà sulla strada otto o dieci parcheggi gratuiti.